se non tutti sanno ma io ho paura dell'altezza quindi qui mi sto mezzo cagando però per il bene del canale faccio anche questo ecco noi dovremo andare penso che sia là in fondo o là dietro alla spiaggia degli hippie quindi andiamo siamo fermati qui amore ce la facciamo una dronata qui ma ho detto sai cosa ho detto al canale che in poche parole io ho paura dell'altezza e per il bene del canale sono andato fino lì vicino è per il bene del canale eh si è per il bene tuo no no dai drone tira fuori il drone eccolo qua l'aguila mistica ciao ciao brandon dove sei qua saluta ciao dove andiamo la spiaggia degli hippie si è nera e se sono le carte pokemon le carte pokemon wow belle anche tu ce le hai piene di coca cola che ieri le hai versato la coca cola sopra sì beh beh chiamano lave che voi voi ved nowe sì 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 cioè sì Grazie a tutti 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 Mami Ehi Con calma senza rompere nulla Grazie a tutti 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 Ecco qua Grazie a tutti Abbiamo fatto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti